Stasera i punti in palio pesano, decisamente pesano Roma, Stadio Olimpico, una buona serata da Maurizio Compagnoni Antonio Di Gennaro Minuto di raccoglimento in ricordo dei sei militari italiani caduti a Kabul Ne verticale per Evucinic Il controllo del Montenegrino, ha bisogno di sostegno Arriva Rizzi e la sinistro Frey, il pallone stava per sfuggire alla portiera della Fiorentina e poi lo recupera De Rossi, pallone per Evucinic, per Rotta, tutto di prima a cercare Risa al volo per Evucinic, grande giocata Evucinic, cercato il numero, calcio di rigore Fallo di mano, calcio di rigore Quando gioca in velocità, di prima, con gli inserimenti, movimento senza palla E lo scorrimento ancora della sfera, sempre molto veloce Qui fa un gran numero e il pallo è netto Fischiato Arizzoli Parte Totti, il destro, Rete, Roma in vantaggio Ha tirato fortissimo, Frey anche capisce l'angolo ma è talmente forte, raso terra, angolato che non ci può arrivare Parte Pisano sotto porta Attenzione Totti, Rete Totti, ancora lui, nel reddoppio della Roma Calcio d'angolo ancora sul primo pallo dove Juan non ci arriva ma non è marcato lì Poi Totti arriva a una conclusione di prima intenzione di controbalzo Veramente di grande livello, di grande spessore, ancora lui solo nell'area di rigore Cittaddei a destra, De Rossi l'ignora, ancora a sinistra Anche Totti in pressione, pallone di Perrotta Perrotta al limite, parte il tiro La palla scavacca l'incrocio dei palli, va sul fondo Roma fantastica in questo primo tempo Montolivo, lo insegue Vucinic Accelera Montolivo, zona tiro Il destro, Giulio Sergio, gran parata, non era facile su Montolivo Palli in aria, colpo di testa sul quale arriva Giulio Sergio Gilardino si è elevato benissimo Okaka questa volta che ruba palla L'azione poterossa di Okaka Parte il tiro, ci metti i piedi Frey Grande conclusione di Okaka Vucinic, Vucinic, primo tempo Tanto attenzione a questo retropassaggio sciagurato E le pallone per Gilardino, rete, gran gol di Gilardino Gran gol di Gilardino, questo è un gol davvero da campione Perché non era facile Un minuto e mezzo alla fine Lancio per Gilardino, il volo Che palla gli ha dato Zanetti Può bastare per Rizzoli Game over all'Olimpico La Roma cancella Basilea, un grande primo tempo 3-1 alla Fiorentina nel primo tempo Però troppo brutta per essere vero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti